Chi ha provocato negli ultimi 10-15 anni le difficoltà, le enormi difficoltà di queste due banche, naturalmente deve pagare e certamente non è ai responsabili di questo dissesto che si indirizza all'intervento del Governo. L'intervento del Governo ha in mente altri soggetti che non si vede perché debbano pagare. Parlo dei due milioni circa di clienti di queste banche, parlo delle circa 200 mila imprese in gran parte piccole e medie che dal credito di queste banche dipendono, parlo in generale dell'economia di un territorio, di una regione fondamentale nell'economia del Nord-Est a cui il messaggio molto chiaro deve essere che lo Stato c'è, che il Governo interviene nel pieno rispetto delle regole dell'Unione Europea ma interviene per attenuare le conseguenze di queste difficoltà e di questa crisi.